Il tema è attuale e molto dibattuto. La formazione di nuove famiglie e tutto ciò che ne consegue genera punti di vista spesso in netto contrasto tra loro, pone interrogativi dal punto di vista etico. Certo è che in una fase come questa, caratterizzata da grandi rivendicazioni, la Chiesa ha inteso ribadire il proprio punto di vista, rimettendo al centro la famiglia. Di questo si è parlato a Frosolone durante un incontro frutto dell'intesa tra il Dipartimento di Salute Mentale di Sernia, la parrocchia di Santa Maria Assunta e il Rettore dell'Eremo di Sant'Egidio. Un tema che bisogna cercare di comprendere bene, senza mettere da parte, la famiglia, quella che noi chiamiamo famiglia, perché solo dando sostegno alla famiglia noi possiamo risolvere i grandi problemi. Oggi la famiglia sta dando un segno molto bello di attenzione a tutti i componenti della famiglia durante questo tempo di crisi. Togliendo la famiglia, il suo ruolo, noi non facciamo altro che indebolire sempre di più la nostra società. Uno degli aspetti più delicati nella formazione di nuove coppie riguarda la gestione dei figli, comprensibilmente più fragili dal punto di vista psicologico. Direi che il problema principale oggi la famiglia tradizionale è in crisi, c'è una riduzione del numero dei matrimoni, sia civile che religiose. Ci sono nuove forme di famiglia, la più importante che interessa noi che facciamo la clinica sono i figli delle famiglie ricomposte, cioè quando i due genitori si separano dal coniuge e poi ricompongono una nuova famiglia, magari con la nascita di nuovi figli. Lei capisce che il problema diventa quello del figlio dei genitori biologici, quello dei nuovi figli e questi ragazzi hanno grossi problemi dal punto di vista psichico, dal punto di vista dell'apprendimento, parecchi dei giovani si rifugiano a una tossicodipendenza, le ragazze nei disturbi del comportamento alimentare. Quindi siccome questa situazione è in crescita in tutta Italia, prima in particolare nel centro nord, oggi anche nel sud e oggi anche nel Molise, sta attirando l'interesse di noi che operiamo nel campo della salute mentale.